Buongiorno Allora, continuiamo i discorsi sulla continuità della consapevolezza e quindi da dove avevamo lasciato ieri Ieri ho detto che il ritiro è importante non prendere decisioni Ieri ho detto che durante il ritiro è molto importante non prendere alcune decisioni Potremmo avere qualche idea sulla nostra vita di cambiare lavoro, casa, padre, bellissima idea che magari ci sembra che è Ma aspettiamo la fine del ritiro e anche qualche giorno dopo We could have like wonderful ideas regarding meaningful things in life in terms of changes like changing job, whatever could be Better to wait, don't take any decision within the retreat and even after the first days it's better to wait Ci riaggiustiamo nella nostra vita quotidiana e lì poi grazie anche al lavoro fatto sulla consapevolezza possiamo prendere le nostre decisioni We need to settle back to daily life, our daily life and then only after that we can take any decision Abbiamo una decisione da prendere ogni giorno qua Almeno una Here we have at least one decision that we have to take every day Ed è una sorta di challenge come dicono gli inglesi, di sfida, di qualcosa che ci mette lì adesso o quel che faccia And this is a kind of challenge in order to say like what am I going to do Prendo il piatto piccolo, il pianto fondo, il piatto grande Ci metto le lenticchie nel piatto grande, vicino alla scarola ci stanno anche oppure mettono le lenticchie vicino al miglio May I take this kind of plate or the other kind of plate smaller, bigger, larger, whatever Should I take a lenticchie or maybe the salad or maybe both of them and then should I keep space for this and that and so on This is the only kind of decisions that we are taking here in regards to our life Fine Nothing more Poi tutto il resto è nel campo della meditazione And then all the rest is about meditation field Quante ore dormire, quante farne in camera, di sessioni, quante qua, fa tutta parte del campo meditativo How many hours of sleep do we need, how many sittings am I going to do in the meditation hall or in my room Only these things are related to staying here E nel momento in cui si attivano i pensieri, generiamo l'intenzione di accorgersene prima, una volta che ce ne siamo accorti And when thoughts activate, we generate the intention to catch them before E di ritornare subito al nostro oggetto primario una volta che ce ne siamo accorti che questi ce ne sono andati And then immediately go back to the primary object as soon as thoughts faded away Questa è la nostra scelta di fondo So this is our basic choice Non appena ci accorgiamo dei pensieri, l'intenzione di accoggercene prima la prossima volta Non stiamo lì a sfrugugliare dentro i pensieri, eventualmente anche decisioni sulla vita taglia tutto e torna all'oggetto primario E come dicevo ieri ci sono alcuni pensieri su cui questo tipo di intenzione non è sufficiente, non funziona E abbiamo bisogno di un approccio più caldo, più comprensivo, non solo Vipassana, come dire, lo stile di Vipassana che taglia tutto, che pota, 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 pota ogni cosa E quindi abbiamo bisogno di un altro tipo di approccio, più caldo, più comprensivo, in un modo Non in un modo stesso modo di un approccio di Vipassana, che è di tagliare, tagliare, tagliare Pota a pota magari per i bergamaschi non funziona molto Questo è qualcosa del dialetto in Italia, quindi non lo farò tradurare E quindi possiamo fare uso, in modo saggio, dei quattro incommensurabili Nel momento in cui osserviamo che questi pensieri, come dire, riportano, ci riportano situazioni di vita a cui teniamo molto, che sono molto importanti E che non riusciamo semplicemente a gestirli con la nota mentale o con la consapevolezza di Vipassana O meglio, che la nostra consapevolezza di Vipassana non è così acuta da poterli gestire Allora, se continuano a presentarsi, a generare emozioni che disturbano la nostra pratica Potrebbe essere opportuno cambiare approccio Se possiamo stare in Vipassana, stiamo in Vipassana, punto Of course, if we can stay in Vipassana, we stay there and that's it Ma qualora la nostra pratica fosse faticosa, difficile, queste emozioni che continuano a disturbare su queste situazioni di vita Allora possiamo prendere una decisione di cambiare approccio consapevolmente Lasciamo Vipassana per un inizio della sessione, per una sessione, in accordo normalmente con i colloqui Quindi, in questo caso, se questi tipi di pensi stanno arrivando ancora, creando stati emozionali In questo caso, possiamo cambiare la meditazione dal Vipassana ad un altro approccio O se sorge quella chiara comprensione che adesso ha bisogno di questo E quindi possiamo passare a una pratica sui quattro incommensurabili che sono sul binario di Samatha Ossia, non Vipassana In Vipassana l'oggetto è scoperto dove è In Samatha è creato dalla mente E poi possiamo cambiare le quattro incommensurabili che sono parte della pratica di Samatha La differenza principale tra il Vipassana e il Samatha è la seguente In Vipassana, non creiamo l'oggetto, l'oggetto è scoperto e lo observiamo In Samatha, l'oggetto è creato Diciamo che in Vipassana l'oggetto è un processo, un fenomeno Il vero oggetto di Vipassana è una realtà ultima In Samatha è un concetto Di questo ve ne parlerà il nostro amico Jan meglio domani But about this topic Jan will talk more tomorrow Ora, come gestire quelle situazioni ricorrenti con i quattro incommensurabili Come gestire quelle situazioni ricorrenti con i quattro incommensurabili Sia questo pezzo vale sia nella nostra vita quotidiana che poi anche nel ritorno Una pratica di Vipassana come stiamo facendo in ritiro Avete tutti praticato la Metta qua insieme La Metta è l'aspirazione e la felicità degli esseri E magari ci sono situazioni ricorrenti che ci richiamano la nostra fragilità Non riesco a fare questa cosa Sono sempre lo stesso Mi sento inadeguato Non vado bene Sono sbagliato Tutta quella roba che magari ci portiamo dentro da Decenni E quanti ognuno Quanti decenni ha Magari Possono essere situazioni E risultati In riguardo Per esempio Non essere capito Non essere capito Di affrontare una situazione Non essere capito di fare qualcosa In modo giusto O qualcosa dal pasto Che viene nella mente Allora e ancora E questo naturalmente genera un attaccamento Al voler essere in altro modo E questo genera Che è un osso duro 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 Per ammorbidire quest'osso duro Possiamo praticare la Metta In order to soften To soften This Difficulty We can use Metta Possa io accettarmi così come sono May I accept myself As I am Possa io volermi bene May I love myself Possa io essere amico di me stesso May I be a friend May I be a friend A friend of mine May I be safe May I be safe Ricondizioniamo la mente Ricondizioniamo la mente su formazioni mentali Se guardiamo con l'occhio di Vipassana Che sono dei buoni stati Delle buone formazioni Prendendoci cura di quelle formazioni che appesantiscono la nostra vita Prendendoci cura di quelle formazioni che appesantiscono la nostra vita Che nella Metta le osserviamo come parti di sé E prendiamo tutti questi piccoli me da adulti e diamo una mano a questi piccoli me dando un senso di sicurezza, di protezione Ci sono io, ti aiuto Le integriamo In modo tale che poi in Vipassana quando le incontriamo sono un po' più addolcite, non sono così forti e aspre In Metta le ascoltiamo, dialoghiamo con queste parti In Metta le ascoltiamo, dialoghiamo con queste parti In Metta le ascoltiamo con queste parti, abbiamo una comunicazione con loro In Vipassana le osserviamo come formazioni mentali che ostacolano il nostro cammino meditativo E non diamo retta a queste storie Taglia, pota, pota Taglia, pota, poter… Rimogliarlo Un altro modo per integrare queste parti è una semplicissima pratica, andare in camera, sdraiarsi sul letto e abbracciare un cuscino Come se abbracciassimo noi stessi o quelle parti che hanno bisogno di essere ascoltate, integrate, riconosciute, hanno bisogno di amore. Come stessi abbracciassimo queste parti che hanno bisogno di essere integrati e che hanno bisogno di amore, hanno bisogno di metta, tutti noi abbiamo bisogno di metta, tutti gli esseri del mondo hanno bisogno di metta e anche io ho bisogno di metta. A volte ci possono essere delle situazioni ricorrenti o modelli mentali ricorrenti dove io non mi merito metta o non me ne meritano più gli altri. E se la metta non è sufficiente perché ci appunto non incontra il nostro bisogno perché ci sentiamo di non meritare questa cosa. Mentre in vipassana la guardiamo come avversione verso di sé. E quindi vediamo l'effetto di questi pensieri che hanno verso il nostro interno come se qualcosa venisse proprio come una forza distruttiva che va verso, contro di noi. Nei quattro incommensurabili possiamo usare la compassione. Nel altro senso, nei quattro stati boundlessi, possiamo usare la compassione. E aprire il cuore alla sofferenza che questo tipo di pensieri ha creato nella nostra vita e tuttora sta creando. E possiamo usare la sofferenza alla sofferenza che questi pensieri hanno creato alla sofferenza che tutte queste pensieri mentali creano. Ci vuole coraggio per aprire il cuore alla sofferenza. Ci vuole fiducia. Ci vuole fiducia. Che è una buona cosa. Che è una buona cosa. Perché a volte è più facile compensare. E quindi aprire il cuore alla sofferenza perché sentiamo la sofferenza sottostante questi pensieri ricorrenti. Ecco qua. E sentiamo la sofferenza nella compassione, nel desiderio, nell'aspirazione di liberarci da questa sofferenza. La compassione è una forza attiva che aiuta a uscire dalla sofferenza. Se aprendo il cuore alla sofferenza soffriamo di più. Non è compassione, è disperazione. E quindi è meglio non praticarla. La compassione apre e aiuta a trovare una via di uscita. È una mano che diamo per uscire dalla sofferenza, a noi stessi o a qualcun altro. La compassione apre e aiuta a arrivare dalla sofferenza per noi stessi o per gli altri. Ed è uno stato mentale che lavora anche nelle nostre azioni, tant'è che si parla di compassione in azione. Ed è naturale. Se vediamo qualcuno che inciampa ci viene naturale dargli una mano. E questa è compassione. L'aiuto a far sì che quella persona possa ricevere una mano. La gioia compartecipe, mudita, il nome in pali di compassione è karuna. Mudita o karuna in pali è simpatica. No, sì. Karuna è compassione. Ah, sì, scusa, ho fatto confusione. Quindi, da un'altra parte abbiamo la compassione, che è karuna in pali. L'altra parte abbiamo la mudita, la simpatica gioia. Jan, nelle meditazioni guidate, ci ha invitato a sentire la felicità di essere qui. A sentirci felici per essere qui. Se ricordate, Jan, durante la meditazione guidata, ci ha invitato a sentire la felicità di essere qui. Sentire quel senso di gioia nel prenderci cura di noi stessi, nel fare un ritiro insieme, nell'essere qui, nel aver preso la decisione di venire in ritiro. Magari era tanto tempo che mi frullava in testa, vado, non vado, vado, non vado. Quindi, per percepire la felicità di essere qui, prendere parte nel ritiro, essere qui con tutte le altre persone, commettate all'inizio. Magari era un tempo che stavamo pensato nello. Per fare qualcosa di importante per me. Quindi, per fare qualcosa di importante e significativo per me. E sebbene magari le nostre situazioni di vita possano essere difficili o difficilissime, abbiamo adesso un tetto sulla testa, un centro che ci accoglie, del cibo, degli amici vicino. Abbiamo un corpo che ci permette di sedersi e alzarci, di essere autosufficienti. E non è per tutti così. E anche per noi non è sempre così, potremmo avere quel dolore, quel problema. problema. Abbiamo una mente che, per tutti i pensieri e emozioni che possiamo avere, comunque sta meditando. E si sta impegnando in qualcosa che è applicata per il nostro benessere. e abbiamo una mente che è applicata per la meditazione, per fare esercizi e in qualche modo meditazione. Può ascoltare, ricevere istruzioni, parlare, confrontarsi. E non è per tutti così. Può ascoltare, ricevere instruzioni e così on. Non è per tutti. E abbiamo la fortuna di essere in un posto di Dhamma, di incontrare il Dhamma, di praticare il Dhamma. E anche nelle situazioni più terribili che possiamo vivere, possiamo, come dire, considerare che ci sono comunque delle fortune. Abbiamo incontrato il Dhamma. Abbiamo incontrato il Dhamma. Questa è la fortuna delle fortune. E anche nelle situazioni più difficili della vita, almeno possiamo ancora pensare di quanto fortunati siamo per incontrare il Dhamma. La meditazione sulla gioia con partecipo e una volta Bhante Sujiva l'ha portata in un incontro con le persone in carcere. Once Bhante Sujiva used meditation on empathetic joy into the jail. Potete pensare quale gioia potrebbe esserci stare nel carcere. Can you imagine what kind of joy could there be in staying in the jail? Eppure con un discorso introduttivo ha funzionato. L'ultimo incommensurabile, poi adesso non c'è tempo per andare su quel discorso introduttivo, ma è molto interessante. Di fatto, beh, ha detto che un suo insegnante una volta fu arrestato per errore e che i sei mesi, se non sbaglio, che ha passato in carcere, un monaco, furono i sei mesi... Ah, come sono stati? Bellissimi! Quindi, Bhante's teacher, un monaco, ha detto... Un monaco, un monaco thailandese. Un monaco thailandese. Un monaco, lui, ha detto una volta che aveva bisogno di essere in jail. Era in prison. Quindi, ha restato lì per sei mesi. Per errore. Per errore. Ok. E ha descritto quella volta come una veramente meraviglia. Era un errore giudiziario. Però, in sei mesi questo monaco dice, bellissimo, nessuno bussava la mia porta. Potevo meditare, studiare, fare tutto quello che era. E ho trovato sei mesi bellissimo, portavano il cibo lì. Perfetto. Quindi, era un errore giudiziario. Però, comunque, aveva bisogno di restare lì per sei mesi. Ma non aveva bisogno di guardare nulla. Perché tutto era portato a lui, come la cibo, quello che aveva bisogno. Quindi, era perfetto. Aveva meditare, studiare, tutto il tempo che aveva. Il quarto incommensurabile è l'equanimità. Il quattro stato è l'equanimità. Faccio un discorso molto breve sugli incommensurabili, perdonatemi. Ma non sono il punto essenziale del discorso di stasera. Solo un breve parlamento, perché non è un tema per la notte. Il tema centrale. Il tema centrale. Equanimità è una parola che può creare confusione. E nel gergo meditativo abbiamo diversi tipi di equanimità. In vipassana abbiamo, ad esempio, upekka vedana, il sentire né piacevole né spiacevole, neutrale. In vipassana abbiamo upekka vedana, il sentire neutro, quindi non spiacevole, non dispiacevole. Che con la consapevolezza di vipassana possono diventare vedana equanimi. poi abbiamo upekka, l'equanimità delle formazioni mentali. Abbiamo upekka come fattore del risveglio. Upekka come fattore del risveglio. Upekka come fattore dell'enlignamento. Insomma, vari tipi di upekka. Quando ci riferiamo agli incommensurabili, abbiamo una relazione sempre con gli esseri. E quindi in questo caso l'equanimità è un'equanimità verso gli esseri. E quindi in questo caso l'equanimità è equanimità verso gli esseri. E anche equanimità verso se stessi, chiaramente. In questo senso l'equanimità ha a che fare con un profondo stato di pace e accettazione. In questo caso l'equanimità è relativa a un stato profondo di pace. Quando dicevo che non possiamo fare nulla su queste situazioni che abbiamo, possiamo sempre fare qualcosa, accettarle. In altri termini, essere equanimi. La formula dell'equanimità è possa io accettare questo ed essere in pace con esso. E lavora contro l'impotenza. Contro la disperazione. Contro la disperazione. Quando non vediamo via d'uscita. Quando non vediamo via d'uscita. Possiamo accettare questa situazione ed essere in pace con questa. Parliamo di una pace interiore. E se interiormente siamo in conflitto con qualche cosa che non possiamo vincere. In altre parole, siamo in conflitto con la vita. E l'equanimità permette di riordinare, ripristinare un equilibrio con quegli io che pensano di poter dominare su certi processi, su certe condizioni di vita. E l'equanimità è la possibilità di riordinare, in un modo, tutti quelli che io, io e me, e riordinare un equilibrio con loro. Tutte quelle parti che pensano di non invecchiare, di non ammalarsi. Che la morte non capiterà a me o a quella persona. Che chi c'è caro ciò che è caro, lotteremo per sempre. E che possiamo vincere il karma. Sono cinque situazioni che vengono chiamate cinque rimembranze. Invecchiamento, malattia, morte, perdita di chi mi è caro, di ciò che mi è caro e il karma e i suoi risultati. Come tutti gli esseri anche io sono soggetto a queste cinque condizioni della vita, è il gioco della vita. Tutti gli esseri sono soggetti a queste condizioni. Tutti gli esseri sono soggetti a queste condizioni. E tutti gli esseri sono soggetti a queste situazioni. Passe io accettarlo ed essere in pace con questi. E questo permette di addolcire un po' quelle forze, quelle turbine sottostanti di attaccamento a quegli io che pensano di poter superare o l'avversione turbina che invece si agisce contro di sé. Per poterle poi di nuovo riosservare in vipassana e depotenziarne l'effetto, decondizionarci da queste formazioni. Nello Zen c'è un koan. Nello Zen c'è un koan. Se vuoi prendere il ladro devi cavalcare il suo cavallo. Se vuoi prendere il suo cavallo devi riuscire con il suo cavallo. Riuscire con il suo cavallo. Riuscire con il suo cavallo. Riuscire. Rispetto a questi pensieri, no? Per poterli afferrare, sono dei ladri di attenzione, potremmo osservarli anche così. E quindi come poter afferrare questi pensieri? Quindi come poter capire questi pensieri? Cavalcare il cavallo del ladro. Riuscire con il cavallo del ladro. Qual è il cavallo del ladro? Ma qual è il cavallo del ladro? Che cavallo cavalcano questi pensieri? E questo è un modo molto efficace. Qui ritorniamo in Vipassana. qui in Vipassana. Inquinanti? Sono i ladri. Inquinanti? No, sono i lacrari. Ego anche questo può essere visto come un processo che è un ladro di attenzione. Perchè ha bisogno di attenzione, quindi... Quindi l'ego, ma ancora l'ego è un pezzo in termini di attenzione. Informazioni mentali, pensieri. I pensieri sono gli stessi, sono i ladri. Che cavallo? La mente. Consciousness. La coscienza, la mente. E quindi portare la consapevolezza alla mente. E in particolare a cosa della mente? Come salire sul cavallo? Ma l'attenzione a cosa in particolare? Come salire sul cavallo? Consapevolezza della coscienza, in particolare... Io penso. Quindi possiamo cambiare... Scusate, sul cavallo in inglese. Cioè, la consapevolezza della coscienza. In particolare, su che cosa? Su quale processo potremmo dire? Questo è il mio pensiero. Perché i koan non hanno delle soluzioni, no? Vengono date dal maestro e stai lì per sette anni di fronte a un muro. Per sette anni, poi torni dal maestro e gli dare la risposta. Questo mi ha detto il mio amico Raymond, che è stato un monaco Zen che vive qui vicino. Cioè, la consapevolezza della coscienza, la metà coscienza, non so se è una parte di un impasto, no? Sì, 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 sì. Fuochino. Consapevolezza della coscienza. Consapevolezza della coscienza. Consapevolezza della coscienza. Consapevolezza della coscienza. Penso che ci sia una sottigliezza ulteriore. Penso che ci sia qualcosa di più sottile. C'è un impulso che nella mente, perché quello è il cavallo, che fa scattare. Quell'impulso, nel linguaggio di Vipassana, lo chiamiamo intenzione. E questa pratica entra nel capitolo della consapevolezza dell'intenzione. che è un altro dei punti fondamentali per la continuità della consapevolezza. che è un altro elemento importante per la continuità della consapevolezza. Continuità della consapevolezza. Come sapete le istruzioni sono rallentare ogni attività e notare mentalmente cosa accade. Senza diventare paranoici con questa nota mentale, però applicarla. Nella seduta, come nella camminata e nell'attività quotidiana. Quindi sollevare, abbassare, sollevare, avanzare, abbassare, masticare, deglutire, osservare e usiamo il verbo all'infinito. E noi apprendiamo questa approccia mentre andiamo al sito, mentre andiamo al meditazione e durante le attività quotidiane. Quindi quando observiamo il movimento nel l'abdomen, quando facevamo ogni fase del passo, mentre stiamo, come prendiamo l'unico di prima, smalando e così via. Udire, udire, pensare, pensare. E poi prendiamo la nota mentale, ascoltando, ascoltando, pensando, pensando. La nota mentale, come dicevo per ieri, è un'attività della consapevolezza, non è un processo di pensiero che attiva pensieri, ma pulisce i pensieri. La nota mentale è un'attività di pensiero, non attivando l'attività di pensiero. Che aiuta a mantenere la consapevolezza, quindi a rivelare il processo che è in atto. Cosa sta accadendo, cosa la mente sta facendo, cosa sta osservando. E quindi nel pensare-pensare viene notato l'oggetto pensiero, che in questo caso nel pensare è un processo del pensare. Quindi l'oggetto e la mente che nota. La nota mentale ci rivela anche che c'è una mente che sta notando. Oggetto uditivo, che è passato. Sorge l'udire in funzione dell'oggetto e del contatto dell'oggetto con la mente. C'è una mente che sta, come dire, su cui si è attivato il processo dell'udire. Nella camminata possiamo molto più facilmente osservare come il corpo, quando riceve l'istruzione di avanzare, avanza. E c'è il processo dell'avanzare. Quindi le sensazioni fisiche e la mente che nota che sta avanzando. Sì, scusa. Sì, scusa. In questo caso possiamo osservare tutte le sensazioni relacionate con il movimento, relacionate con l'intenzione di avanzare. Il sollevare è un insieme di processi fisici e di processi mentali che notano questi processi, da cui sorge sollevare e sollevare. E così per il masticare, per il deglutire, per qualsiasi processo, l'alzarsi, l'abbassarsi, sedersi. E la notte mentale rivela che c'è un sistema interconnesso di processi fisici e mentali. E la consapevolezza dell'intenzione ci aiuta a cogliere che il corpo da solo non si muove. Senza l'intenzione di voler camminare, di alzarci, il corpo non si alza da solo, non cammina da solo. L'intenzione è un impulso, un comando, potremmo chiamarlo anche un pensiero, se vogliamo, di fare qualcosa. Viene chiamato anche desiderio, chanda in lingua Pali. E quindi possiamo anche fare un piccolo esperimento, mettete una mano su una gamba. Ora, alzatela senza l'intenzione di alzarla. Provate di prenderla senza l'intenzione di farlo. Ora l'intenzione di alzarla. Adesso l'intenzione di alzarla. Da solo il corpo non si muove. C'è comunque sempre dietro un'intenzione. C'è forse un'intenzione di pensare prima del pensare? di fare qualcosa? Quello è il cavallo del ladro. Questo è il cavallo del cavallo. Secondo me. In mia opinione. In mia opinione. Su quell'aspetto della coscienza che, puff, fa correre il ladro e comincia, e ruba l'attenzione. E il cavallo inizia a correre. La coscienza si espande, va di qui, va di là, su, giù. E poi il cavallo, la coscienza, inizia a rinforzare, 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 qui e qui. Tutto il nostro lavoro è di invertire la direzione del flusso che normalmente i ladri d'attenzione portano verso l'esterno, verso gli oggetti dei sensi. Il nostro lavoro è di rinforzare, rinforzare, l'intenzione di quelli di attenzione. E la consapevolezza dell'intenzione è esplorata grazie alla chiara comprensione dell'intenzione stessa. Abbiamo quattro campi di indagine. Il primo è lo scopo, il proposito. Se fossimo sempre consapevoli dell'intenzione, sappiamo come mai stiamo facendo quella cosa. Ogni tanto facciamo delle cose senza sapere come mai. Se fossimo consapevoli dell'intenzione tutto il tempo, di quello che stiamo facendo, sappiamo perché stiamo facendo quella cosa. Sempre sappiamo perché stiamo facendo quella cosa. E in questo caso, quindi, prima del sollevare il piede, c'è l'intenzione del sollevare. Ogni volta che cogliamo quell'intenzione stiamo facendo un passo nella nostra fortificazione della consapevolezza dell'intenzione. Quindi in questo modo, per esempio, per riuscire al passo, potremmo percepire l'intenzione prima di riuscire al passo, per riuscire al passo. Ora, se cogliamo l'intenzione, possiamo vedere quali sono le condizioni del sorgere di quell'intenzione. Cosa vuole? Potremmo avere buoni propositi o propositi non buoni. Il lasciare andare potrebbe essere un proposito che porta verso, se c'è un'incomprensione, l'indifferenza. E i buoni propositi a volte si possono un po' mascherare. Se siamo consapevoli dell'intenzione, vediamo con che condizioni quell'intenzione è sorta. Se c'era consapevolezza dell'intenzione o se era, magari, invece, amica di figlie, di attaccamento, di avversione, di illusione. L'intenzione di prendersi cura di sé è un buon proposito. L'intenzione di prendersi cura di sé è un buon proposito. Ma se nasconde l'intenzione sottostante di chiudere le nostre porte agli altri, è un'avversione agli altri, non è un buon proposito. Ma se è solo scoperto l'intenzione di essere separati dagli altri, non dispiace di affrontare dagli altri, allora non è un buon proposito. Il secondo campo di indagine è la adeguatezza, in inglese è suitability. Quindi, suitability è il secondo campo di indagine. La traduzione in italiano normalmente è adeguatezza, ma ha qualcosa più a che fare con la convenienza, l'appropriatezza di quell'intenzione. Il proposito di praticare vipassana è un proposito nobile. Quindi il proposito di praticare vipassana è uno nobile. Ma se stiamo attraversando la strada e c'è un tir che ci sta... E facciamo udire, 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 udire... Non è adeguata quella intenzione di praticare vipassana al contesto in cui siamo in quel momento. Quindi, l'intenzione non è suitable according to the situation. E quindi non solo essere certi del buon proposito, ma anche dell'appropriatezza di quell'intenzione in quel momento, in quella particolare situazione. La consapevolezza dell'adeguatezza dell'intenzione ci permette di migliorare la nostra facoltà di scegliere gli aggetti appropriati in meditazione. La consapevolezza dell'intenzione ci permette di sviluppare la consapevolezza dell'intenzione ci permette di sviluppare la consapevolezza di quali obiettivi in questo momento per osservare in Vipassana. Jan, nei discorsi precedenti abbiamo visto diversi oggetti, primario, secondario, e la possibilità di ricorrere a specifici oggetti in funzione di condizioni che incontro. As you remember, Jan told you about different objects, primary and secondary objects, and the opportunity to switch or to choose different objects according, in this case, to the suitability of the situation you are facing. E per estensione anche eventualmente alla pratica di Samatha, dei quattro incommensurabili, in funzione di certe circostanze che incontro. Il terzo campo di indagine viene chiamato la chiara comprensione del campo in cui quell'intenzione sta agendo. Lasciamo la nostra intenzione di praticare meditazione sul cuscino, in questa sala, poi appunto dietro quella porta chissà ce la portiamo, estendiamo il campo di pratica. Viene detto che il campo del monaco, il campo estensione del monaco, sono i quattro sati pattana, i quattro fondamenti della consapevolezza. I quattro sati pattana sono la consapevolezza del corpo, la consapevolezza del dolore e del piacere ognuno nell'altro, la consapevolezza della mente e la consapevolezza dei fenomeni, dei dhamma. Quello che stiamo facendo qua. Quindi le quattro sati pattana sono la consapevolezza del corpo, la consapevolezza del toni, vedana, plesurabile, nonplesurabile o neutrale, la consapevolezza della consapevolezza e la consapevolezza della dhamma. E la domanda sottostante nell'estensione della chiara comprensione del campo, dell'intenzione è, seguendo le parole di Shantideva, Come attuare la pratica della presenza mentale a queste condizioni? E quindi il campo diventa tutta la vita. Non c'è distinzione fra pratica formale, pratica informale, a casa, ma l'applicazione della consapevolezza è stesa a ogni situazione. I quattro sati pattana indica che ogni esperienza può essere oggetto di applicazione di consapevolezza. Il quarto campo d'indagine è la chiara comprensione della non-illusione. E applicata all'intenzione significa osservare quell'intenzione come non sé, non io, non me, non mia. E mai capitato in questi giorni di grattarvi senza essersi accorti che magari siete già lì, che vi siete grattati? O di essere mossi senza avere la consapevolezza di aver avuto tutta la consapevolezza di tutto il movimento? Abbiamo visto che il corpo senza intenzione non si muove? Normalmente senza questo suono non ci alziamo dalla sala. Normalmente senza questo suono non si stiamo andando e andiamo fuori dalla sala. E quando suona la campana a un certo punto ci alziamo in piedi. Se la campana non suona, siamo seduti. Se la campana non suona, siamo seduti. In altre parole, diciamo che l'intenzione è un processo condizionato. Quindi l'intenzione è un processo condizionato da altri fattori. Senza il prurito non sorge l'intenzione di grattarci. Quando c'è il prurito, sorge l'intenzione di grattarci. Quando c'è il prurito, sorge l'intenzione di grattarci. E così possiamo osservare come l'intenzione sorga naturalmente in dipendenza di certe cause. E così possiamo osservare come l'intenzione sorga naturalmente in alcune cause. E vediamo che se reagiamo a questi impulsi. L'intreccio si infettisce, l'intenzione si infettisce, l'intenzione si infettisce. La chiara comprensione della non-illusione dell'intenzione ci permette di poter osservare l'intenzione come un processo mentale. E se non ne va della nostra vita, non grattarci e stare con il prurito e la voglia di grattarci, senza agire con l'intenzione, senza salire sul cavallo del ladro. Quindi se siamo capiti... Senza che il ladro arrivi, perdone, ma avete capito insomma. Giusto? Avete capito. Appliare la complianza di non-illusione che permette di poter osservare l'intenzione come un processo natural che rilassi per il condizionismo. Quindi, con la scuola, possiamo restare con la willa di scuola, senza scuola, senza scuola sull'esercito, senza la scuola che prende la nostra attenzione e guida il nostro flusso e porta il nostro, salendo, se il ladro, se giriamo queste intenzioni, senza consapevolezza il ladro ci porta al di fuori del campo di consapevolezza e della chiara comprensione. Sono solo nel medio del Dhamma, ma penso sia meglio fermarci qua per non andare a saturare le menti. Ma penso sia meglio fermarci qui, altrimenti la mente sarà piena di informazioni.